E' stata una giornata di controlli intensi a Cava dei Tirreni, quella di martedì 26 febbraio. Infatti nell'ambito del rafforzamento dei controlli finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa disposti dal questore di Salerno nella città metelliana, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito con il supporto di due equipaggi del reparto Prevenzione Crimine per la Campania una serie di controlli di prevenzione. Nel dettaglio sono 88 le persone identificate, di cui 14 con precedenti. Tre sono i posti di controllo effettuati, mentre complessivamente sono stati fermati 58 veicoli, se le contravvenzioni al codice della strada riscontrate. Sono state due le contestazioni elevate per guida di veicoli sprovvisti di assicurazione, per responsabilità civile e di veicoli in questione sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Una la contestazione per guida senza patente, poi una contestazione per circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica, nonché due contestazioni per mancanza di documenti di circolazione. Per quanto riguarda invece i controlli relativi allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, è stato beccato il conducente di un autocarro che trasportava materiale da risulta in assenza di formulario relativo all'acquisizione e destinazione del materiale.